Questo pomeriggio gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio ai castellani di Empoli a Marco Arnautovic, che da una prima diagnosi ha accusato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sensazione filtri l'ambiente nerazzurri. Spiega Gazzettadello Sport. Non è positivo il club spera l'infortunio sia del secondo grado. Quindi la fermata sia entro i limiti a 45 giorni. Ma paura possa essere osata e rimane nei box lì almeno due mesi li è. Qualunque sia il tempismo. Rivela la Rosea. I gestori di Nerazzurri non sono disposti a rivolgersi al rilascio del libero di raccogliere il buco nella squadra. Questo è ciò che è emerso ieri. Da un primo vertice post-match. A gennaio. Nel caso. Vedrai se intervenire inserendo un altro attaccante nella squadra. Legge il pezzo.